Tessa, apri la porta! È Ardyn Scott. Ardyn, ora hai due possibilità. O mi scopi, o te ne vai. Decidi. Mi hai ferito, non ti posso perdonare. Quindi stanotte non vale niente? Non ero cosciente di quello che facevo. Ho baciato quel ragazzo. La mia Tessa non bacierebbe mai un estraneo! No, io non sono più la tua Tessa, hai capito? È successo qualcosa tra voi? Mi ha detto una bugia. Un'enorme bugia. Io non ti lascerò mai più.